YOLANDA SWITZ In totale sono 12 segnati su questo foglio Molto bene Bene E ovviamente vince chi prende meno ingredienti brutti Chi ne prende più belli e chi fa lo slime più bello Ora voi sarete a decretare il vincitore di questo video Chi è stato il più bravo a fare lo slime E anche il più fortunato Ma prima di iniziare questo video facciamo un gioco Vai Prima ancora di tutto Il gioco di oggi è questo Dovete indovinare Dovete dirvi il nome esatto Del pupazzo di neve Ah di Frozen Protagonista di Frozen Allora Quindi Cosa vogliamo ricordare prima di iniziare Allora ricordiamo che il venerdì 10 settembre alle ore 18 Ci sarà un nuovo restock di slime Sul sito www.yolandaswitz Apparerà qua magicamente.it Dove ci saranno restock di slime fantastici Tanti pop it nuovi E se volete sanno anche gadget E quello che volete di questa giovane donzella Esatto Poi vi invitiamo a mettere un bel mi piace Di iscrivervi al canale Di attivare la campanella Per ricevere le notifiche dei miei video Esatto Così resta di aggiorno a tutti i giorni alle 14.30 Perfetto Ora dobbiamo vedere chi è che inizia A prendere i pop it La scelta La scelta Ovviamente io andrò a dare una mescolata Certo Non stanno scritti sotto gli ingredienti Ma ci stanno scritti qui Giriamo il foglio Quindi in base a quello che scegliamo c'è l'ingrediente Esatto Ok tocco Ambravacicicocco E Yolanda Puzzampo Inizio io Allora facciamo una cosa Bisogna di iniziare Dammi il foglietto allora No Eh sì Eh no Però puoi mescolare i pop it Perché le dobbiamo bendarci Certo No Lo so però tu mescola intanto Allora io mi chiudo gli occhi Spero di prenderne uno fortunato E spero di prenderne uno bello Vai È un burotto Hai preso questo Ho preso il cuore Che dedico a Daniele Ma grazie amore No No Non te lo dedico Mi dispiace Ora però scopriamo sulla carta magica Cosa è il cuore Dov'è? Dov'è? Non c'è No Lo shampoo Ma iniziava Io raga Inizi molto male Quando faccio le challenge con Daniele Sono sempre sfortunata Sì ma questo lo pensi tu No È realtà Dici? Allora comunque Il cuore è questo Che lo sapete L'ho aperto nell'ultimo video Di pop it giganti Giganti Arriverà anche una seconda parte Non perdetela Più che altro Questo pop it non era il mio preferito Quindi Vabbè Mettiamolo di qua Chiuditi gli occhi Ok Ok vuoi fare Ok Doraemon Ok Gatto spaziale Come si chiama l'amico di Doraemon L'amico umano di Doraemon Tu lo sai il nome? No Non lo dico Non lo dico Dovete scriverlo Dovete scriverlo Voi giù nei commenti A fine video Se mi ricordo Ve lo dico Dico che sei stato sfortunato Contro me Perché hai preso La colla Giotto Nel barattolone Mi dispiace Quindi mettiti da parte Il tuo Doraemon E continuiamo Mi stiamo amando Che Fai un macello immenso Aia Vai Oh Ciao a tutti Sono un dinosauro bellissimo Vediamo il dinosauro Ho preso la crema Dai Ho preso la crema Questo è stato uno Dei miei primi Pop it giganti Sì è vero Ha fatto anche meglio Viaggi questo pop it Insieme al quadrato gigante Non tengo una fame No Chiudi gli occhi E Vediamo un po' Ok Prendilo Mini Fa schifo Fa schifo Fa schifo Giù Dole Vuoi sapere cosa hai preso Cosa Hai preso la mucchina Posso anche non fare lo slime Ti bendi Unicarno Unicarni Io vi amerei Ma speriamo che mi abbia portato bene Con la trasparente colorata Chiudi gli occhi Chiudi gli occhi Questa Quale dei due Tupolino Ciao ragazzi Sono Tupolino Ti sta bene la faccia di Tupolino Ragazzi Si è andato bene dai Hai preso il colorante Ma dove sta Ma dove stanno i po' Eh ma la devi guardare Eh no Non c'è sto presendo Unicarno Oh Among Us Questo era bellissimo Raga Mamma mia È stupendo questo Ti faccio schiacciare i bottoni Vedi quanto è bello Perché tu questi giganti Non li hai provati No Prova Senti E faccio la mia Belli rigidi Si è bello rigido Ma vediamo sul foglio magico Che cos'è Among Us No Brutto Bruttissimo È l'amido di mais Eh ci vedo Ci vedo Ci vedo Buono Sto facciamo le zanzare Vai Zzz Zzz Gno 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 Oh the biggest Guarda quanto caspita è grande Questa è veramente veramente grande Ma controlliamo che cos'è Allora il quadrato gigante Hai una percezione secondo te di cosa possa essere No perchè esistono in natura tanti ingredienti E ti dico che non è una cosa molto bella Ma bui per niente E ti dico che è Colorante nero Dixon Dixon detersivo per la lavatrice Dai Sono io Non sono un pop Non sono un pop Dici quello che voglio mangiare Hamburger Controlla tu vedi che cos'è Penso c'è scritto panino se non mi sbaglio Oh wow Sprinkles Oh yeah Vabbè dai raga Vai Ok Peppa Pig Oh che bello Vediamo Hai preso la schiuma da barba Oh Sei stato molto fortunato Perché ti può molto aiutare con la colla Fidati Fidati Davvero Ti può molto Dici tu io mi fido Ti può molto aiutare E ora Yolanda Facciamo una cosa Di destra o sinistra Destra o sinistra Ma la mia destra Cioè La tua destra Dove sia uguale Sinistra Te E questo a me Totoro Che bello Totoro Controlliamo rispettivamente cosa sono le cose Allora vediamo Hello Kitty Tutti Tedesimo per piatti Pure ragazzi Facciamo una lavastoviglie oggi Mentre Totoro Glitter più palline Ok Ora Prendiamo tutti gli ingredienti Che abbiamo pescato Tanti e brutti Soprattutto E Vediamo un pochettino Cosa Esce fuori Ole Eccoci qua Ole 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 Tan 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 Siamo pronti Per fare lo slime Prontissimi Con la colla giotto Io invece comincio Anch'io con la colla Che non mi mancava per niente Non ti mancava Io comincio con la colla Trasparente e colorata Tu cosa metti dentro? Metto la scuola barba Io invece metto la crema Dai Sapone veri piatti Io metto lo shampoo A questo punto Metto l'amido di mais Un po' di colorantino Come si chiama? La mucchina qua Io metto le decorazioni Questa mucchina di tiger Gli sprinkles Le palline E alla fine devi addensare E io invece metto i glitter Puzza Si addensa un bello slime Non ci credo ragazzi Comunque il mio è questo Che è rosso rosa per rosa E io vado ad addensare Con la soluzione E il bicarbonato Ok ragazzi Allora Allora a me si sta lentamente Vedete Vedete Addensando Mentre a me è completamente addensato Te l'ho detto io Te l'ho detto Fammi fare un altro pochino Non ti devi lamentare No mai nella vita Come nello scorso video Intanto sentiamo Il mio slime com'è E' venuto una specie di Rosso aranciato Rosso aranciato Cos'è il colore? Uh Però 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 Senti Aspetta vediamo il mio E' un po' Gigli Giglino E' normale Perché la colla a giocco E' la no è pure la Guarda qua Allora il mio è Molto scoppiettante Ok Alla fine Vedete il tuo è venuto benissimo Questo è il mio ragazzi E questo è il suo Giudicate quale è stato Il più bello Guardate Grazie mille a tutti Per aver visto questo video Questa nuova challenge Suggeriteci altri video Giù nei commenti Noi vi vogliamo Tanto bene Non perdetevi il video Di domani Che sarà un'altra sfida Sensazionale con i pop it Vi mandiamo un bacione Ed un abbraccio E noi come sempre Ci vediamo domani A dei 14.30 Con un nuovissimo video Bye Ciao Ciao